allora qua è tutto pronto mi pare buonasera benvenuti a funamboli allora noi in questo angolo di solito abbiamo gli artigiani lavoratori stasera abbiamo chi lavoratore è stato e ha una pensione o sta per averla vero franco tra quanto tempo tra un anno come si chiama lei giuseppe allora loro staranno nella nostra puntata a staranno a giocare fondamentalmente a che gioco scala 40 allora i nostri pensionati in studio giocheranno a scala 40 ascolteranno quello che hanno da dire i politici cercheranno di capire qualcosa abbiamo delle cose di giuliano poletti ministro del lavoro abbiamo corrado passera che ha delle con il ministro con la fornero che ha delle cose da dirci a proposito della fornero e pare che sia abbastanza felice di quello che la fornero ha fatto abbiamo tante cose aspetterò il vostro commento mentre andrà avanti la partita magari ogni tanto mi mi unisco a voi e soprattutto cercheremo di capire perché in vent'anni in questo paese sono state fatte 9 anzi 8 la nona sarà quella di renzi riforme sulle pensioni e nessuno la certezza di quanto prenderà quando andrà in pensione d'accordo certo io sono d'accordo però non ci capisco ancora niente perché una volta c'è una volta non c'è non riesco a capire questo come è possibile capire queste cose ascoltate e tra poco vi chiederò la vostra opinione che carta mi ha dato che gioco stiamo giocando tra l'altro scala 40 va bene vediamo che i nostri politici lo sanno fare c'è la sigla c'è il nostro valesse pronto a fare il rap che introduce la puntata insomma tante cose stasera state lì a tra poco un programma in collaborazione con primi in Europa scegli la qualità dei farmaci Teva music plays inizia a funambuli un'altra puntata ancora questa sera parliamo di pensioni pensioni per la gente che lavora se hai diritto la pensione dopo una vita che lavori c'è solo un problema il problema che la pensione la prendi dopo che muori se tanto chissà se ci arrivo la mattina mi sveglio dico cavoli sono ancora vivo questo governo è quello decisivo no questo governo è recidivo se si chissà dove andremo a finire la speranza è l'ultima a morire è l'ultima a morire ma comunque muore grazie per i contributi mio caro lavoratore se introduco gli ospiti che sono arrivati con i miei versi improvvisati inizio da gnecchi ma ci conviene diventare vecchi se da gnecchi passo a noci di notte sento le voci le voci che dicono non avrai mai la pensione inutile che continui a lavorare coglione se da gnecchi passo a fa tutto non è con l'acqua la gola intorno alla gola c'è uno struzzo si sta per iniziare la trasmissione ecco questa è la mia opinione si inizia la trasmissione chissà se durante la vecchiaia avremo un bastone yes valesse valesco il nostro rap grazie grande hai fatto una sintesi meravigliosa nessuno avrebbe potuto farla così bene la pensione si prende quando si muore è d'accordo fatuzzo su questo non fare lo struzzo ascolta fatuzzo allora facciamo così stai con un attimo con me in studio Stefania Sirtori buonasera benvenuta buonasera buonasera a tutti buonasera ai tuoi ospiti prima degli aggiornamenti anche dalle news ti posso chiedere di spiegarmi meglio per chi sta a casa chi è fatuzzo dobbiamo render conto ancora una volta di scontri e purtroppo anche di due feriti gravi prima del derby di roma e poi la carica della polizia lancio di fumogeni scontri dopo il derby che per la cronaca va detto si è giudicato alla roma e comunque insomma ancora notizie che sono state ormai ribattute da tutti i telegiornali e anche dai giornali online due feriti gravi ci torniamo se serve durante la puntata quindi stiamo attenti anche alle news carlo fatuzzo profilo carlo fatuzzo è noto esperto di pensioni ma soprattutto conosciuto per essere il fondatore e leader del partito dei pensionati che è nato se non erro 28 anni fa proprio con l'obiettivo di tutelare i diritti dei pensionati italiani allora valesse fatuzzo ha detto questo governo è recidivo la pensione la prendi solo quando muori è d'accordo un sì o un no 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 sono d'accordissimo se non ci svegliamo se non ci svegliamo lavoratori e pensionati che pensionati e lavoratori che pagano i contributi veramente finirà che si paga solamente non si prende nulla quindi urge urge una rivolta dei lavoratori per la pensione rivolta addirittura va bene segui la puntata con calma perché alla fine dovrei fare un riassunto il mio scopo è cercare di far capire meglio stasera chi sta a casa che cosa succederà con la riforma renzi tra qualche mese se ci sarà a proposito di questa flessibilità e cercare di capire se avveremo una certezza o meno della pensione non lo so tu guarda se ce la facciamo poi ci dici io questa sera mi divertirò un sacco secondo me va bene grazie valesse stefania l'abbiamo presentata chiediamo una mano a stefania anche per presentare gli altri ospiti do il benvenuto a maria luisa gnecchi partito democratico benvenuta buonasera buonasera stefi maria luisa gnecchi che è deputata del partito democratico ed è in commissione lavoro alla camera è stata vicepresidente della provincia di bolzano e della regione trentino alto adige ed è stata anche una dipendente dell'inps sì è corretto è finito scusami stefi ecco una cosa a bolzano che ha vinto lì ha vinto il pd praticamente al ballottaggio ma a votare non c'è nato quasi nessuno come dalle altre parti diciamo ma non vi preoccupate voi di sta roba no noi ci preoccupiamo molto sì e avete trovato una spiegazione cioè perché non sono andate a votare a bolzano intanto come prima cosa penso che con grandi e dure lotte si è conquistato il diritto di voto soprattutto noi donne e quindi vedere che adesso quello che è un diritto viene invece non considerato dispiace molto quindi bisogna assolutamente riuscire a capire magari anche un modo per dire qualcosa ai politici non andare a votare purtroppo infatti penso che la manovra Fornero sia anche stata un motivo vero sì per creare sfiducia nelle istituzioni e nello Stato allora l'ho detto prima tra un po' sentiremo anche Corrado Passera che doveva essere tra l'altro qui questa sera purtroppo non è riuscito a intervenire ma ha avuto un incontro con noi sui temi che affronteremo e è importante sentirelo perché lui la difende la legge Fornero naturalmente essendo stato ministro di quel governo sentiamo che ne pensa il professor Giuliano Noci benvenuto buonasera buonasera professore buonasera economista è professore ordinario di strategia e marketing al Politecnico di Milano ed è responsabile dell'osservatorio scientifico e-government sempre del Politecnico lei che ne pensa di questa storia delle pensioni cioè siamo alla nona se arriva a quella di Renzi riforma in 20 anni uno ogni due anni quasi penso che in Italia si faccia una grande confusione si diranno delle illusioni al paese il tema delle pensioni è un tema molto serio tuttavia non può e non deve essere approcciato come la politica lo ha fatto in questi ultimi anni come l'ha fatto la politica ma dando delle illusioni prima dicendo che in qualche modo nel passato fino agli anni 90 col sistema retributivo che non era sostenibile col sistema contributivo ora ma sostanzialmente dobbiamo renderci conto che noi viviamo con un sistema che era tarato con una demografia con un'età media che assolutamente oggi non è più quindi siamo un paese vecchio i giovani non lavorano e non possono sostenere questo livello di spesa pensionistica che sottolinea i telespettatori è il doppio rispetto a quello della Germania e di larga parte dei paesi europei ma credo che avremo modo di entrare perché questo è un tema di qualità della spesa pubblica allora facciamo così vediamo subito vediamo un assaggio di quello che è successo nella nostra intervista con Corrado Passera che ha dato un giudizio ben definito dell'attuale ministro del lavoro e del suo ministro che si è occupato di pensioni la Fornero vediamo Corrado Passera è un anticipo di quello che vedremo tra poco però ci aiuta a impostare meglio la discussione prego per quanto riguarda la Fornero struttura generale della riforma pensionistica assolutamente di un voto alto per adesso sul disordine degli annunci sulle pensioni che questo governo nel suo complesso sta facendo perché poi c'è di peggio adesso si ricomincia a parlare di ricalcolo delle pensioni anche di quelle che sono adesso in vigore quindi non adeguamento all'inflazione ma proprio taglio ricalcolando le pensioni sulla base del contributivo fin dall'inizio la reazione alla decisione della Corte Costituzionale mi sembra insufficiente parlare di flessibilità secondo me è un imbroglio quindi nel complesso questo governo sulle pensioni è gravemente insufficiente gravemente insufficiente Gnecchi rispondiamo a Passera giudizio del governo sulle pensioni allora che cosa pensi Renzi non lo sappiamo ancora no 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 Passera dice che è gravemente insufficiente quello che sta facendo il governo si riferisce anche a questa cosa della flessibilità cioè Renzi ha detto stiamo studiando un meccanismo per dare più libertà se una donna vuole andare in pensione un po' prima rinunciando a 30 euro insomma la cosa potrebbe fare solo del bene ecco provo a riassumere e diciamo che è la prima volta che Renzi cita le pensioni e la citate tra il resto facendo un esempio delle nonne che se hanno voglia di stare con i nipotini è giusto che stiano con i nipotini allora dobbiamo probabilmente dire anche che cosa è successo a queste nonne a queste donne di cui non parla mai nessuno la manovra Fornero ha previsto che dal primo gennaio del 2012 le donne potessero andare in pensione con 62 anni quindi le nate fino al 31 dicembre del 51 avevano diritto ad andare in pensione a 60 anni le nate il giorno dopo primo gennaio del 52 vanno in pensione a ottobre del 2015 ma è quindi praticamente 4 anni dopo quindi perdono 4 anni così sì ma se andiamo a vedere nel 52 la donna nata infatti ci arrivo la donna nata nell'aprile del 52 va nel novembre del 2017 quindi Renzi vuole mettere a posto questi problemi qui la donna nata nel luglio del 52 va in pensione nel giugno del 2019 allora le donne nate nello stesso anno 1952 a differenza di pochi mesi l'una dall'altra possono andare in pensione con 4 anni di differenza allora questa è sicuramente una cosa sbagliata al di là di quello che diceva quindi Renzi sta pensando a una soluzione quindi alcune situazioni di correzione vanno applicate della manovra Fornero sono indispensabili allora la fermo qui perché ho la pubblicità sono indispensabili poi mi spiega esattamente però che cosa vuole fare Renzi se le farà vorrei proprio capire se parliamo di ipotesi o avete già studiato qualcosa di reale e realistico vedo il professor Noci che ha fatto delle facce che vorrei che mi spiegasse aspetta ho la pubblicità poi mi spiega tutto tra poco sulla legge Fornero discuteremo con la legge di stabilità la possibilità di rendere più flessibile l'uscita perché noi sappiamo che abbiamo due situazioni diverse ma impegnative entrambe da un lato abbiamo persone avanti nell'età che rischiano di perdere o perdono il lavoro e con gli ammortizzatori sociali non arrivano a maturare i requisiti del pensionamento poi abbiamo un altro aspetto abbiamo imprese e abbiamo cittadini che dicono noi vorremmo poter andare prima in pensione anche facendo un sacrificio un sostegno dell'impresa al lavoratore che va o la scelta da parte del cittadino di rinunciare ad una parte della propria pensione avendo la possibilità di andarci prima questo è un tema di flessibilità che in legge di stabilità affronteremo è difficile da affrontare perché noi sappiamo che il tema delle pensioni pesa in maniera rilevantissima per quello che riguarda il bilancio della spesa pubblica del nostro paese quindi c'è un tema di sostenibilità che va gestito e che va concordato con l'Europa perché noi con l'Europa abbiamo avviato un percorso virtuoso positivo che ci consegna degli elementi di flessibilità nella gestione del debito dei parametri e quindi ci consente di fare degli investimenti ma se come posso dire cambiamo strada manteniamo gli impegni l'Europa fa presto a cambiare a sua volta atteggiamento Bentornati in tutte queste parole del Ministro Poletti bisogna tirar fuori un paio di concetti fondamentalmente quanti anni prima si può andare in pensione e perdendo quanti soldi dall'assegno sempre se questa riforma verrà fatta ora ne parliamo intanto vi presento un altro ospite che è arrivato in studio Lice Aronzulli benvenuta grazie buonasera a voi presentazione Steffi Lice Aronzulli fa parte della segreteria nazionale di Forza Italia ex eurodeputata una curiosità pochi giorni fa insomma ad aprile ha fatto parte di una ricostruzione di un dibattimento a metà tra la ricostruzione storica e lo spettacolo teatrale al Manzoni di Monza dove ha vestito i panni della monaca di Monza della monaca di Monza si ci sono hanno partecipato anche altri personaggi della giustizia della politica italiana tra l'altro vedo anche dei tatuaggi no cos'è? no non sono tatuaggi sono disegni di mia figlia che ha deciso di colorarmi le mani prima di andare via ha detto così non ti manco mamma le guardi non per sentire meglio quello che dice Poletti ogni tanto uno si può distrarre va bene benvenuta guarderai i cartoni animati prima di sentire liceo Ronzulli volevo capire il professor Noci prima ha fatto delle facce strane quando l'onorevole Gniecchi parlava e spiegava della necessità di cambiare la fornero adesso abbiamo sentito più o meno nel dettaglio cosa succederà tra un po' cioè questa famosa flessibilità in sintesi secondo lei è la strada giusta? no innanzitutto quello che volevo dire la voglia di dire il tema dello scalino dello scalone è un tema reale quindi certamente va disciplinato dissentivo non tanto su quello che diceva l'onorevole ma mettendo insieme quello che ha detto l'onorevole con quello che non ha detto il ministro Poletti c'è un problema grande come una casa che noi la politica continua a scansare per un discorso elettorale di breve periodo il problema è la spesa pensionistica attuale non è sostenibile abbiamo un livello di disoccupazione giovanile del 50% in passato si poteva pensare 30 anni fa che i giovani potessero sostenere un sistema pensionistico basato sul retributivo perché c'era l'età media che era molto più bassa ora è cambiato quindi c'è un tema di sostenibilità dei conti pubblici da cui non possiamo prescindere il ministro Poletti ha tergiversato sul fatto della flessibilità in uscita perché c'è un dato che non ha voluto dire che la flessibilità in uscita anche se comporterà dei sacrifici a chi vorrà andare in pensione comporta un ulteriore aumento della spesa pubblica nel breve il tema è dove andiamo a recuperare questi soldi guardi cosa abbiamo scritto la lavagna dove andiamo a recuperarli perché abbiamo alcune idee dopo le chiediamo insieme se aumentiamo da tutte le parti da qualche altra parte dobbiamo ridurre la spesa ecco tra poco cerchiamo di capire esattamente dove Fatuzzo si può fare sta cosa della flessibilità cioè vado in pensione un po' prima e lo Stato mi dà meno soldi non so da che parte cominciare siccome devo essere breve siccome devo essere breve per quanto riguarda la flessibilità sono 27 anni cioè da quando ho fondato il partito pensionati che continuo a ripetere tutti i giorni anticipare facoltativamente l'età di pensione per dare più facilmente lavoro ai giovani prendo atto che finalmente dopo 24 anni c'è qualcuno che mi copia potevano fare anche un po' prima seconda cosa che devo dire no mi riferisco a quanto ha detto il professore Pocanzi io vorrei sapere io pure ho una domanda da fare io vorrei sapere i 40 anni di contributi che hanno versato i lavoratori che oggi sono in pensione con la pensione di anzianità o i 30 i 35 i 20 anni che hanno pagato tutti i mesi di tutti gli anni che hanno lavorato la metà del proprio stipendio netto perché se lo ritrovassero quando avrebbero avuto avessero avuto l'età di pensione di vecchiaia o l'invalidità o fossero andati all'altro mondo lasciando i familiari vedovi o vedove dove sono finiti che cosa ne hanno fatto i governi passati dei soldi di chi oggi è pensionato e che oltre aver pagato sudato costruito tutto quello che abbiamo attorno qualcuno ha fatto anche la guerra qualcuno ha fatto anche l'ultima guerra si sentono dare degli egoisti perché non vogliono lasciare la loro pensione ai giovani quindi dovrebbero morire di fame o di sete o di malattie a loro scelta perché qualcun altro ha rubato i loro soldi li ha fatti sparire e giustamente il professore dice dove li troviamo questi soldi però rendiamoci conto che tutti coloro che stanno riscuotendo la pensione oggi per aver versato i contributi quella pensione che prendono è la metà della metà di quello che prenderebbero se avessero affidato i loro soldi a una onesta compagnia di assicurazione o a una onesta banca oppure avessero provveduto da se stessi tenendosi questi contributi anziché darli alla banda lei tra l'altro ha citato anche io mi sono stancato di leggere i suoi giornali tutte le volte mi sono stancato non del professore mi sono stancato di tutti i giornali di tutte le televisioni che continuano a ditare i pensionati come degli egoisti che non pensano ai giovani più che i commenti dei politici in studio vorrei capire cosa riusciremo ad avere tra qualche mese Ronzuli diceva scusi no non capivo perché il professor Noci questo volevo capire adesso glielo dico può non essere d'accordo con no non sono assolutamente d'accordo papà lei è appena arrivata lei ha pagato già 15 minuti è arrivata tardi colpa sua va beh ragazzi dai su prego grazie no può non essere d'accordo con l'onorevole non lo sono però obiettivamente l'ultima frase che ha detto è di assoluto buon senso oltre che veritiero cioè se uno affidava ai tempi metà della cifra con una con una pensione diciamo così con un'agenzia privata con una banca ora prenderebbe una signora pensione quindi avrebbe il capitale da lasciare ai figli quindi non capisco francamente l'ironia io te lo dico subito il perché perché c'è un'ulteriore mistificazione non esiste una categoria di pensionati esistono due categorie di pensionati rispetto alle quali i conti sono molto diversi esistono i pensionati che sono andati in pensione col sistema contributivo e i pensionati che vanno in pensione col sistema retributivo come sa benissimo l'onorevole allora il ragionamento come spiegherò successivamente il ragionamento fatto si presta è più coerente con la seconda tipologia di pensionati che effettivamente si trova in una condizione molto diversa rispetto quelli prima ho capito dove prima no quelli prima glielo dico già perché non lo dice no ci lo dicono i numeri ci sono categorie di pensionati col sistema contributivo che hanno portano a casa caro onorevole tre volte quello che hanno versato grazie al fatto che vengono pagati con le ultime retribuzioni ci sono quindi delle persone che portano a casa tre volte quello che hanno versato assolutamente prima Fatuzzo citava i giovani vorrei inquadrarli a questo punto abbiamo i ragazzi del Politecnico in studio buonasera con chi parliamo stasera microfono va cioè no volevo solo capire Cristina Cristina ecco chiunque va bene benvenute poi parliamo con calma che ne pensate di questa cosa c'è qualcuno che ha preso tre volte quello che ha lasciato è un tema ci mettete la testa su questa cosa dei giovani le pensioni vi preoccupate non ve ne frega niente secondo me non è vero poi andiamo a questa commentiamo questo dato poi vediamo prego sicuramente è ingiusto come è già stato detto visto che noi siamo giovani ci troviamo in una situazione lavorativa pessima e almeno per quanto riguarda me che sono pendolare mi trovo a lavorare per mantenermi in studio a Milano e spero un giorno di avere una pensione di quanto dovrebbe essere la tua pensione così se oggi fossi in pensione per vivere vai dammi una cifra ma a Milano dove vuoi tu dove vivi tu a Milano 800 almeno almeno 800 al mese almeno è una è una cifra 2000 che quadra cioè ad oggi il pensionato medio può arrivare a 800 allora è evidente che per i giovani se non hanno iniziato a lavorare da giovani e non hanno una retribuzione che comporti una contribuzione vera questo è il problema reale però è il problema di cui parlava Poletti anche le aziende hanno bisogno di giovani e per poter assumere giovani c'è bisogno che le persone meno giovani o diversamente giovani o comunque anziane possano andare in pensione il problema vero che si è creato con la manovra Fornero è la mancanza di gradualità questo è il problema vero anziché pensare a mettere a posto rifare la riforma delle pensioni bisognava in teoria iniziare a così visto che comunque il Parlamento di proposte di legge per rimediare questo scempio che è stata la legge Fornero allora uno inizia prima a sistemare quello che ha ereditato e che non va perché nessuno ha mai considerato e non ha mai pensato di risolvere e poi messi a posto quel gruppo di persone va avanti e pensa a una riforma che è quello che stiamo facendo voglio aggiungere una cosa al nostro dibattito in studio guardate un ministro che lavorava con la Fornero un ministro importante dello sviluppo economico come Corrado Passera ancora abbiamo fatto le stesse domande che stiamo ponendo a voi in studio cosa ha detto Abrogio della Fornero e della riforma Renzi poi torniamo su questo perché è il tema di cui ci stiamo occupando qualche secondo sentiamo io credo che promettere agli italiani che con qualche decina di euro in meno di pensione si possa andare in pensione qualche anno in anticipo sia un imbroglio assoluto cioè ma non è neanche da discutere cioè stiamo parlando di rimettere in discussione una riforma che ha reso sostenibile il sistema pensionistico ritornando alla situazione precedente ecco l'Italia è uscita da quella situazione difficilissima del 2011 perché abbiamo convinto il mondo i nostri partner europei i mercati finanziari che avevamo deciso di fare una riforma seria completa delle pensioni rendendole sostenibili se togliamo l'età di uscita con dei piccoli interventi sugli ammontari noi rimettiamo in discussione la tenuta e quindi mettiamo a rischio le pensioni italiane allora ahimè quello di Poletti e Renzi è uno specchietto per le allodole per far dimenticare ai pensionati la gravissima violazione della sentenza della corte costituzionale che impone di restituire 19 miliardi di euro ai pensionati gli fa balenare l'idea a tutti gli altri che sono senza pensione una presa per il ditelo voi su 19 è un insulto per distrarre l'attenzione del pensionato e portandola sul lavoratore che si illude in questa ragione chi ha parlato prima che si illude di poter anticipare la pensione pagando 20-30 euro io ho la pubblicità subito dopo sai perché hanno buttato fuori questa cosa perché c'è in arrivo un'altra sentenza della corte costituzionale che quando uscirà si dovranno suicidare va bene me la racconta tra poco questo è interessante devo sentire anche la replica dell'onorevole Gniecchi lo facciamo dopo l'obbligità ho anche i miei pensionati in studio che da quando si parla anche quando parla a Fatuzzo hanno smesso di giocare a carte poi mi spiegate perché basta non l'avete smesso va bene a tra poco replica dell'onorevole del PD e anche questa sentenza della consulta mi interessa capire di che cosa stiamo parlando a tra poco allora qua mentre bentornati innanzitutto mentre c'era la pubblicità si facevano i conti su quello che diceva una delle ragazze che c'è in studio che parla di 800 euro ha detto io vorrei avere la pensione 800 euro cari pensionati che siete tra me stasera e mi date l'onore di essere dei nostri state giocando a tra l'altro belotte e belotte come? belotte e belotte che spiegato a chi ci segue da Roma vuol dire una scopo ecco allora vabbè poi me la spiega meglio però questa cosa degli 800 euro lei me l'ha criticata subito non bastano perché? come faccio a vivere? scusi a un certo punto paga affitto paga l'immondizia la luce il gas e poi dopo cosa faccio? gli do tutti i soldi a loro e io cosa mangio? io vivo perché ho dei figli che mi danno da mangiare e vivo con loro e riesco ancora a mettermi qualcosa se devo comprare una camicia o devo comprare un paio di calze come faccio? quindi quanto serve? ci vuole il minimo 1500 euro 1500 euro al mese al mese va bene per tutti i pensionati Gniecchi mi commenta per cortesia naturalmente questa cifra che mi sembra molto lontana dalla media di molti pensionati e poi le critiche feroci che sono arrivate a quello che sta per fare il governo insomma che sono arrivate prima in studio allora eravamo rimasti alla sentenza però e colgo l'occasione appunto dei 1500 euro per parlare anche della sentenza della corte costituzionale la manovra Fornero aveva bloccato l'aumento delle pensioni a tutte le pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo e quindi tre volte il trattamento minimo è 1400 euro mentre sempre la corte costituzionale aveva ritenuto equa la misura del governo Prodi che aveva bloccato temporaneamente quindi solo per un anno l'aumento delle pensioni fino a otto volte il trattamento minimo quindi fino a quasi 4000 euro proprio perché quello che dicevano anche i signori che hanno sospeso il gioco delle carte 1500 euro è oggettivamente una pensione che può permettere di vivere e quindi almeno fino a 1500 euro bisogna comunque avere tutte le possibilità di aumento però anche sopra 1500 euro bisogna comunque garantire almeno un aumento graduale quindi la sentenza della corte contesta alla manovra Fornero il fatto che sia stata bloccato l'aumento delle pensioni a tutte le pensioni superiori ai 1500 euro e quindi impone la restituzione di quello che non è stato dato però è ovvio come diceva prima il professore che questo sistema che questo sistema pensionistico ha anche bisogno di risorse per cui se i giovani non lavorano se manca il lavoro ma anche a chi mette poi i soldi nel sistema delle pensioni e vedete che bisogna comunque tener conto di tutto bene il tener conto di tutto conta anche quindi trovare una gradualità che è la stessa cosa che contestavo alla manovra Fornero rispetto all'età della pensione di vecchiaia in particolare delle donne cosa della quale non parla mai nessuno e la collega che ha fatto anche la parlamentare europea sa che in tutti gli altri paesi d'Europa rispetto alla pensione dei vecchiai delle donne ci sono molte misure a favore il riconoscimento dei periodi di astensione dal lavoro per l'educazione dei figli o l'assistenza a persone non autosufficienti oppure addirittura la Francia che dà il 10% in più di pensione se uno ha tre figli certo Passera ha detto è un imbroglio sta roba qui in studio sono arrivate critiche feroci mi dice perché invece secondo lei non è un imbroglio e se la farete perché poi non ho mica capito se la farete riconosco a Passera che non si riuscirà a garantire la flessibilità rinunciando solo a 20-30 euro al mese 20-30% 20-30% dice Rizzerunzulli abbiamo capito di pensioni che sono davvero dico anche che noi 50% il 50% secondo fa tutto è un'azione è un'azione illegale perché la persona affamata che è rimasta senza pensione e senza lavoro si vede offerta dal governo mezza pensione subito piuttosto che morire di fame e di set nel giro di 15-20-30 giorni accetta anche accetterà anche mezza pensione ma è una violazione è un'amiliazione dell'uomo ma quando mai non è quello che vogliamo fare è come se io vedo un povero che ha bisogno delle lemosine e gli dico guarda io ti do 100 euro ma tu mi dai la tua casa allora noci noci che vergogna no allora la sentenza è un po' da dire qualcosa sulla sentenza della corte costituzionale che non ha detto come l'ha interpretata poi ci arriviamo poi lei mi ha anche detto una cosa su una nuova sentenza che sta arrivando vorrei capirci qualcosa cioè il tema di fondo secondo me la mistificazione o il problema è che noi stiamo esaminando le pensioni come se fossero qualcosa in sé in realtà sono una componente della spesa pubblica giustamente l'onorevole diceva ma in Italia poi ci sono dei costi legati non ci sono dei sovvenzioni per quando le persone vanno in malattie e quant'altro è esattamente questo il problema cioè il carico l'incidenza della spesa pensionistica insieme ad altre componenti che poi esamineremo puntualmente è tale per cui l'Italia ha una pessima qualità della spesa pubblica cioè in altre parole per dare a quei pensionati che sono andati in pensione col sistema retributivo per mantenere questi noi dobbiamo sostanzialmente ridurre politiche attive sul lavoro non possiamo ridurre quello che è l'onere previdenziale delle imprese quindi abbiamo il cuneo fiscale cioè lei dice sono state fatte delle ingiustizie nel passato c'è qualcuno che prende più di quello che ha lasciato e qual è la soluzione? è il problema di fondo che poi lo pagano questi giovani perché il tema è che abbiamo il 43% di disoccupazione giovanile io capisco che abbiamo una situazione di pensioni che in molti casi non sono pensioni che permettono di vivere nel paese ma abbiamo il 43% di giovani che non lavora e che quindi è a carico delle famiglie però bisogna trovare una soluzione la soluzione è molto chiara la soluzione è andare oltre gli slogan del primo ministro del consiglio Renzi e non approcciare il problema in termini incrementali ma andare alla radice andare alla radice vuol dire riordinare complessivamente la spesa pubblica per riordinare la spesa pubblica che cosa vuol dire fare vuol dire la macchina della pubblica amministrazione e cambiarla non parlare di spending review che non vuol dire nulla facciamo così la blocco perché tra poco ci torniamo però intanto Ronzulli una soluzione quale potrebbe essere cioè qui abbiamo parlato di errori del passato di slogan di Renzi ma allora la soluzione qual è cioè a casa che messaggio possiamo lasciare perché deve andare in pensione a breve ma anche tra un po' no noi ci dicevamo una cosa giusta adesso tagliare la spesa pubblica in produttiva è la prima cosa da fare per recuperare risorse perché senza le risorse spesa pubblica in produttiva io invece ho paura che succederà un'altra cosa che per trovare questi soldi aumenteranno le tasse ancora una volta è inevitabile questo succederà è inevitabile cioè i pensionati oltre a non vedere comunque ricevere la pensione che avevano di cui avevano il diritto che la sentenza ha riconosciuto per tutti avranno anche delle tasse in più perché Renzi comunque adesso a 15 giorni a una settimana dal voto lancia queste cose che evidentemente sono delle esche per raccogliere il voto tra una settimana e allora però ricordiamo Renzi che l'anno scorso poco prima delle elezioni europee lanciò questa cosa degli 80 euro che probabilmente su qualcuno fece presa dimenticandosi dei pensionati volutamente ora non restituisce tutto i pensionati ma soltanto 2 su 19 miliardi cioè è evidentemente una categoria che al premio Renzi da fastidio su questa cosa dei rimborsi della consulta 2 di 19 miliardi vi faccio vedere anche qui quello che ci ha detto Corrado Passare intervistato da Stefania Sirtori un paio di giorni fa perché è interessante che è questo passaggio prego Regia io non credo che un rimborso forfettario di 2 miliardi possa risolvere una decisione come quella della Corte che ne prevede 18 e che probabilmente ne prevederebbe 6-7 all'anno in via continuativa io se devo dirle la vera verità siccome credo nella riforma delle pensioni che ha salvato le pensioni e ha salvato l'Italia dal commissariamento riproporrei la stessa misura già proposta ai tempi del governo di cui ho fatto parte e che il Parlamento ha votato quasi all'unanimità ricordiamoci che l'80% dei membri della Camera hanno votato a favore di questa legge e che io la riproporrei esattamente fornendo alla Corte tutti quegli elementi che probabilmente sono mancati e che le permetterebbero di apprezzare tutte le ragioni per cui questo è stato fatto oggi si crea con questa decisione un precedente molto grave si crea un buco nei conti pubblici molto difficile da gestire e quindi nel rispetto ovviamente della decisione della Corte io mi sono permesso di dire che non condivido in nessun modo questa decisione ogni volta che parla passare in questo studio tutti vorrebbero prendere la paura perché hanno tante cose da dire però io vorrei far parlare lì c'era un Zulio un secondo perché vorrei chiarire sbagliare in mano scusa sbagliare in mano ma perseverare è diabolico che passare addirittura dicano vorrei riportarla per farle spiegare ma è veramente diabolico e poi vorrei ricordare a tutti a casa soprattutto che è vero che c'è stato l'80% ecco questo volevo capire perché ve lo dicono tutti sì peccato che l'abbiamo dovuta votare tappandoci il naso e praticamente con una scura sul collo perché eravamo stati minacciati nel senso vi ricordate la balla sullo spread il golpe che era caduto Berlusconi caduto tutto ogni cosa che arrivava in Parlamento era per il bene del paese ogni cosa che arrivava in Parlamento era per risollevare il paese perché è arrivato il Salvatore Monti obbligati da chi però dalla situazione contingente cioè Monti era il salvatore della patria era il salvatore del mondo ogni cosa che portava era per il bene del paese io parlo per il mio partito per Forza Italia evidentemente Forza Italia non si è mai sottratta a quello che in teoria veniva disegnato eravate obbligati da Monti però nessuno vi ha chiesto di votarlo con l'accetto l'abbiamo votata per senso di responsabilità perché qualcuno in quel periodo raccontava cose che poi si sono verificate non essere così guardate il caso degli esotati chi ha fatto quella legge non si è accorto di quel buco evidentemente qualche errore l'ha fatto se questo qua adesso che sta a casa da un po' di tempo e ha voglia di tornare a fare il politico cosa che francamente è un'altra roba che non riesco a capire no no ma adesso non volevo un commento sulla storia di Passera bisogna dirlo agli italiani scusate mi interessava capire perché siete stati costretti è una battuta veloce Gnechi cosa ne pensa di Forza Italia anche voi siete stati costretti a votare la Forneo tutti costretti è vero siamo stati su questo siete d'accordo siamo stati costretti dal fatto che la manovra si chiama Salva Italia questo lo dimostra costretti senti Leandro l'unica che lo voleva fare la Fornero voi siete stati costretti a seguire la manovra il partito pensionati aveva un deputato che i pensionati quando vanno a votare si dimenticano di essere pensionati e quindi avevamo un solo parlamentare si è alzato in piedi ha fatto vedere la nostra bandiera ha detto noi le votiamo contro e dimostreremo che questa legge è incostituzionale Gnechi risponda a Fatuzzo quando dice così io non ho votato perché non è stato costretto non è incostituzionale è un populista lui ha fatto bene che non si è stato fatto costringere nessuno ha ragione quello che ha detto perché io ho seguito un secondo vorrei capire questa cosa io penso che appunto quella manovra quella manovra si chiamava Salva Italia sono stati costretti la ragioneria di Stato aveva dichiarato nella relazione nella relazione una alla volta una alla volta se non ci capiamo prima che lo faccia la volta è costituzionale era quello che stavo dicendo sì allora quella relazione bollinata dalla ragioneria narrava che rispetto alle pensioni ci sarebbe stato un tempo d'attesa medio di due anni due anni e mezzo e non prevedeva la famosa situazione delle sei salvaguardie che abbiamo già fatto degli esodati parlava di 50 mila persone che avrebbero avuto un danno reale e sarebbero rimasti senza lavoro senza ammortizzatore sociale e senza pensione siamo già a 170 mila e 200 persone salvaguardate con sei salvaguardie quindi è vero che quella manovra è stata fatta in un momento che veniva disegnato come un momento drammatico 80 miliardi di risparmio dal 2012 al 2021 tutti sulle pensioni quello che diciamo noi adesso è che proprio perché 80 miliardi sono stati trovati tutti sulle pensioni bisogna adesso trovare il modo per ricreare gradualità per far andare in pensione le persone anziane e dare lavoro ai giovani perché senza che i giovani lavorino esatto e questo lo sappiamo che gli anziani vadano in pensione lo abbiamo detto non si può salvare il paese c'era pubblicità poi vediamo dove andiamo a trovare i soldi abbiamo alcune proposte vorrei sentire anche la sintesi del professor Noci che è particolarmente così irritato irritato sono irritato no 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 la devo però fermare come sempre l'annuncio prima della della bloc pubblicitario voi ne approfittatene se vi va per scriverci perché subito dopo vediamo anche la vostra opinione attraverso facebook e twitter a tra poco bentornati a Funamboli si parlava dei giovani e adesso vi presento due giovani che sono un po' il simbolo della gioventù di questo 2015 volontari di Expo in collegamento via Skype da Expo buonasera ragazzi buonasera a voi ciao con chi parliamo? io sono Pierluigi ho diciamo anni inquadrati meglio Pierluigi che vediamo solo mezza faccia ah sposta un po' ecco chi è dei due Pierluigi sulla mano? eccolo lì e l'altro invece è? io sono Maurizio 42 anni benvenuti siete entrambi volontari? esatto Expo quindi 42 anni volontario Expo non è è proprio un giovane beh dai mezza età mezza età allora voi siete a Expo mi dite solo un paio di cose intanto grazie per la pazienza perché so che siete lì per noi e siete stati un po' di più c'è una mano davanti a ecco ok perché fate i volontari a Expo è una fregatura o ci guadagnate qualcosa? assolutamente non è una fregatura è soltanto puro divertimento ok ma come funziona? quanto lavorate? vi pagano? spiegate un po' a tutti che non è che tutti hanno chiara sta cosa non ci pagano assolutamente sì ci danno il pranzo sì in strutture convenzionate sì e lavoriamo beh lavoriamo non è non è vero che lavoriamo ci divertiamo aiutiamo le persone per cosa sono? cinque ore al giorno? cinque ore e mezza posso chiederti una cosa ma tu hai dovuto lasciare il lavoro per qualche settimana per fare questa cosa del volontario? sì sì esatto che lavoro fai? costruente informatica tira su un po' il telefono perché ti vediamo sempre solo il naso stavolta ok però ce l'hai potuta fare volevi fare questa esperienza va bene? eccolo lì senti mi fai parlare anche con un ragazzo un po' più giovane? ciao come ti chiami? Luigi Luigi quanti anni hai? 8 8 no 18 no abbiamo capito senti che fai anche tu a Expo è una fregatura per te o è una cosa bella e come mai? bella sinceramente capita una volta nella vita di poter partecipare a questi eventi soprattutto in Italia sì è una volta al secolo sì e niente ci divertiamo senti qua si parla di pensioni è un argomento che ti interessa non ci hai mai messo la testa è appena compiuto 18 anni adesso che te frega per adesso no diciamo hai ragione anche tu passami allora il tuo amico ecco tu hai 42 anni di pensioni ci hai mai messo la testa su sta cosa? sì assolutamente quanto prenderai di pensione? ti parli di idea penso di non prenderla cioè almeno quello che pensiamo a noi è che non la prenderemo mai va bene però ti vedo comunque allegro no? assolutamente altrimenti cioè che vita sarei se sei già stressato o triste a 42 anni interessante cioè tu dici non ci posso fare nulla non ci posso fare nulla quindi sto diciamo sereno adesso questo concetto poi lo voglio portare in studio un'ultima cosa ragazzi mi fate vedere dove siete girate un po' il telefono così diamo idea di dove siete al padiglione del Kazakistan che sicuramente è uno tra i più belli fa vedere vai mettiamoci un po' più indietro siamo in collegamento con un telefonino eh ragazzi quindi lo dico a chi ci segue da casa quella è l'entrata De Duco che c'è dentro questo è il palco di solito dove si esibiscono tutti gli artisti che c'è dentro ce lo spieghi tu al volo che si vede il padiglione dentro innanzitutto c'è una ragazza che crea delle immagini con la sabbia davvero molto brava sì poi c'è una specie di mostra sia sui pesci che vivono sul lo storione sì lo storione quello del caviale perché il marcaspio era famoso sì 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 no va bene va bene la sapete una domanda allora si parla di cibo cioè di nutrire il pianeta lì dentro in quel padiglione sì si parla sicuramente ci sono alcuni che ne parlano altri sono naturalmente degli spot pubblicitari per invitare a visitare le loro nazioni ma in altri assolutamente sì il messaggio che dà la Svizzera è molto bello molto significativo va bene grazie ragazzi buona serata grazie ciao e professor Noci lei si è messo a seguire ormai la puntata in mezzo ai nostri pensionati che giocano a carte che giocano simbolicamente mi sono seduto vicino a loro perché sembra che sia una lotta cioè che io ce l'abbia con loro in realtà io sono vicino ai pensionati e ai loro temi il discorso è che per fare in modo che il nostro signore che diceva prima con 800 euro non riesco a vivere dobbiamo cambiare il tenore della spesa pubblica e soprattutto fare in modo che i giovani riescano a versare quei contributi quant'altro che permettano di pagare le pensioni e do un dato però che ci aiuta ad andare nella direzione che io credo lei voglia adesso assumere che è quella della spesa pubblica l'Italia ad esempio è fanalino di coda l'unione europea per gli investimenti in istruzione quindi un paese che non investe nel capitale umano cioè siamo fanalino di coda con meno dell'1% del prodotto interno lordo sull'investimento sull'istruzione secondaria vuol dire che è un paese che non sta puntando alla crescita da questo punto di vista quindi il tema di fondo qual è? cercare di mantenere la sostenibilità del sistema pensionistico non quello retributivo ma quello contributivo della riforma Dini emendato secondo quanto hanno detto gli autorevoli colleghi poc'anzi e poi andare a modificare attenzione la qualità e non solo la quantità della spesa pubblica perché c'è un altro paradosso e qui le tiro un assist che l'Italia ha una spesa pubblica elevatissima falso falso l'Italia ha avuto tenuto negli ultimi anni un avanzo primario un avanzo primario positivo l'avanzo primario vuol dire la differenza tra entrate e costi senza tener conto degli interessi quindi vuol dire che noi abbiamo questo deficit mostruoso legato al fatto che qualcuno delle generazioni passate ci ha lasciato un peso mostruoso oggi stiamo facendo stiamo cercando come dire abbiamo entrato un po' superiore all'uscita a prescindere dagli interessi è che spendiamo molto male ok chiarissimo adesso arriviamo alle spese a quanto si spende però a proposito di giovani tu vuoi fare una domanda no? fai una roba vieni un attimo al centro dello studio a fare questa domanda perché prima che tu faccia la domanda vorrei usarti come cavia vieni qua puoi dire al signor Fatuzzo esattamente tu che lavoro fai più o meno quanto guadagni così proviamo a simulare la tua pensione sì io al momento faccio parte di quella metà dei giovani italiani in cerca di occupazione quindi non hai entrate assolutamente stai qui c'è qualcuno di voi che lavora? perfetto chi vuole venire un attimo prego vieni allora così facciamo anche la differenza un giovane che tra il 43% di quelli che cerca lavoro è un giovane che lavora cosa fai? allora io praticamente aspetta 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 microfono vai salve io faccio il driver di Rishow che sono delle biciclette con pedalata assistita quanto guadagni? sui 800-900 euro al mese netti? sì da quanto tempo lavori? da poco perché è un servizio che ha cominciato da poco prima facevi disoccupato il tuo primo lavoro? sì allora Fatuzzo in estrema sintesi lui che lavora diciamo da un paio d'anni diciamo così a 800-900 euro al mese netti diciamo che gli va bene che continua così per un po' che pensione può pensare di avere? allora diciamo prima del ragazzo alla tua destra che non ha mai lavorato possiamo partire da lui? no cominciamo prima dal ragazzo alla tua destra niente perché? voglio partire da lui vuoi partire da lui va bene grazie poi arrivo in ossequio alla conduzione grazie sono qua per questo partiamo dall'amico che balla ho capito? che va in bicicletta ah pedala fa il driver va in bicicletta lo pagano per andare in bicicletta che è detto figo ipotizziamo quanti anni ha? 22 22 anni di età quindi immaginiamo che continui fino a 60 anni fortunatissimo si spera allora siccome ne ha 22 arrivare a 60 ne mancano 38 due le ha già fatti arriverebbe con 40 anni di contributi se continua a lavorare prenderebbe una pensione che una volta una volta era l'80% della retribuzione media degli ultimi 10 anni andiamo alla cifra con la nuova legge perché lui è entrato nelle grinfie della legge 8 agosto 1985 numero 335 che ha istituito con grande soddisfazione del professore il sistema contributivo anziché il sistema retributivo quindi quanto con un calcolo illusorio e poi lo spiegherò cioè fantastico di fantasia che gli darà una pensione sicuramente inferiore all'80% diciamo inferiore all'80% 600, 500, 600 euro quanto prende adesso di retribuzione? 800 ma da qua i 60 anni aumenterà sta retribuzione viva Dio ipotizziamo che resti ferma beh no dai facciamo un augurio che guadagnerà 1500 invece di 480 euro al mese valore di oggi come se arriva Einstein teorema della relatività il tempo non passa si ritroverebbe con la vecchia legge del retributivo con l'80% di 800 cioè 640 euro al mese col calcolo contributivo così caro al professore la metto in evidenza prenderebbe non quanto detto 6,40 non 6,40 ma almeno 440 a me è venuta l'ansia già solo con i conti figuriamoci le cifre il sistema contributivo no il sistema contributivo è stato inventato da parlamentari o da esperti finti esperti per pagare almeno il 30 40% di meno di quello ma ricordiamoci però che lui sta pagando ogni mese quanto prendi hai detto 800 sta pagando 400 euro al mese che è il massimo in tutta Europa va bene qual è lo stato in Europa va bene dopo li vediamo perché li abbiamo gli stati le aliquote è l'Italia il 34% noi in Italia lavorando paghiamo per la pensione il massimo di tutta Europa la Svizzera qui vicino a noi paga il 10% si 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 no la fermo perché se no qua sta facendo il comizio io ho bisogno dopo ci arriviamo alle aliquote è una cosa tecnica perché no lo so però allora mi spieghi invece quanto prenderà lui invece prenderebbe continuando a non lavorare fino a 60 fino a 65 fino a 70 fino a 70 lui prenderebbe 630 euro al mese aspetta no 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 allora non ho capito allora non so se avete capito Fatuzzo ha detto che quelli che non lavorano e non versano contributi guadagnano più di quelli che lavorano ora torno da lui e cerco di capire se ho capito male è un fenomeno se non hanno altri redditi questa è una legge quindi è così una giusta legge per non lasciare morire di fame e di sete ho capito ma lui ha lavorato e prende meno è perché è sbagliata la legge in vigore cambiatela voi che siete in Parlamento voi chi non guardi me io sto qua non sto in Parlamento Gniecchi è giusto il calcolo che ne pensa allora il contributivo della legge 335 del 95 prevedeva il 60% di tasso di sostituzione quindi non il 30 o 40 ma insomma il 60% ma non dà neanche più il trattamento minimo non dà più neanche il 600 euro al mese esatto proprio perché non c'è più l'integrazione al trattamento minimo una delle nostre proposte è uno zoccolo che è pari all'assegno sociale che era l'altra misura che diceva che proponeva a lui se per caso non riuscisse a lavorare cosa che invece io gli auguro a questo punto glielo auguriamo prende più di lui che lavora no ecco lo zoccolo dell'assegno sociale 460 euro e in più tutto quello che è stato versato va bene allora scusate perché io fermi fermi allora ho la pubblicità subito dopo ti avevo promesso che potrei fare una domanda a chi la volevi fare? a me con me ce l'ha sempre con me ce l'ha sempre con Ron Zulli bene ripartiamo da qui vedo anche i ragazzi pieni domanda finalmente arriviamo a voi al web e tante altre cose che devono succedere da qua alla fine della posizione seguiteci a tra poco livello di rigidità che è troppo alto che non è utile perché alla fine non produce nulla di buono noi abbiamo un problema di staffetta generazionale abbiamo un sacco di giovani che hanno bisogno di andare a lavorare abbiamo imprese che ci chiedono di poter avere giovani perché come sappiamo tutti quanti qualsiasi comunità compresa un'impresa se non ha tutte le generazioni dentro è meno efficiente è meno efficace è meno dinamica è meno comunità perché non va bene averci solo quelli che hanno già 40 anni o solo 50 e avanti di lì quindi dobbiamo costruire un meccanismo che consenta una possibilità di entrata e uscita più dinamica dovremo studiarlo non sarà facile ma lo faremo non è un caso che vi abbiamo fatto ascoltare queste frasi di Giuliano Poletti parlava di giovani e parlava del motivo per cui va riformata ancora per l'ennesima volta aggiungo io il tema della pensione saremo alla nona riforma in 20 anni Stefi che si dice da casa? Noi abbiamo chiesto così in modo un po' generico se il governo si sta muovendo nella direzione giusta in tema di pensioni ci sono un po' di commenti te ne leggo alcuni Enrico dice le proposte di Renzi sulle pensioni mi sembrano abbastanza valide soprattutto abbassare l'età pensionabile a fronte di una riduzione dell'assegno mensile tanto che mi sembra abbia riscosso consensi nonostante la non restituzione di ciò che sarebbe dovuto dalla mancata indicizzazione il problema come sempre è trovare i soldi Barbara dice per ora si è solo espresso dicendo di voler ridimensionare la riforma Fornero ne siamo tutti felici ma abbiamo le coperture quindi più o meno lo stesso Patrizio dice il vero problema è che in Italia non si investe più la colpa è anche dei governi che non incentivano le aziende ma continuano a tassarle se si fa ripartire il lavoro le pensioni sono strettamente legate a quello i giovani potranno lavorare pagare contributi eccetera non dimentichiamoci di tutti gli stranieri presenti in Italia 30 anni fa non c'erano adesso lavorando in regola potrebbero essere contribuenti sì allora vedo che nel frattempo noi ce l'abbiamo definitivamente perso come va? chi sta vincendo là? ma loro sono fortissimi stiamo cercando mi stanno insegnando scala 40 ma sono bravissimi ho solo da imparare solo da imparare però diceva il telespettatore diceva una cosa molto interessante sul tema del calo degli investimenti io vorrei raccontare una cosa ai telespettatori che in realtà purtroppo per la nostra non capacità di fare scelte che cosa sta avvenendo per cercare di stare nei cosiddetti parametri di Maastricht che poi dopo anche su questo sarebbe interessante discutere questi parametri come sono stati definiti no stasera stiamo riducendo del 60% negli ultimi tre anni le spese in conto capitale che cosa vuol dire traduzione stiamo riducendo gli investimenti perché perché è più comodo ridurre gli investimenti che sono i beni che sono poi quelli che producono ricchezza nel futuro ad esempio in infrastrutture rispetto alla riduzione di spese da spesa corrente cosa vuol dire tagliamo gli investimenti che potranno generare ricchezza mentre manteniamo costi su tutti quelli che sono i servizi intermedi come le consulenze che in Italia valgono 140 miliardi di euro allora adesso io parlerò di questo anche alla lavagna nel frattempo le chiedo di tornare in studio perché se no tutte le volte che vengo qua non riesco più a far parlare i pensionati e parla sempre anche lei le chiedo di tornare in studio da voi torno tra poco perché ho le domande dei ragazzi quindi le domande dei ragazzi si alterano le domande dei pensionati allora quali sono queste domande? buonasera sono Nicolo Fraschini voglio fare una domanda all'onorevole Ronzulli lei diceva prima riguardo alla riforma Fornero che il Parlamento fu costretto a votarla sostanzialmente secondo me non fu in realtà il governo Monti obbligare il Parlamento a votare la riforma fu uno dei vincoli europei che l'Italia ha sottoscritto vent'anni fa a obbligarci a votare una riforma di questo tipo e onestamente mi sorprende che sono esponenti di Forza Italia a fare un discorso del genere proprio quella Forza Italia che nel 94 aveva proposto una riforma ben più pesante di quella Fornero e che su quella riforma il primo governo Berlusconi cadde quindi se si è dovuta fare una riforma dolorosa come quella della Fornero in tempi di crisi è perché i governi precedenti compresi quelli di Berlusconi quella riforma non l'hanno fatta risposta di Licia Ronzulli prego sono felice che Fraschini venga a posta da Pavia per fare le domande alla Ronzulli tutte le volte che la Ronzulli è in trasmissione poi vi incontrate sempre ma lo giuro che non è fatto a posta mi onora o magari potrei anche pensare male magari ha un interesse una simpatia e infatti quindi viene qui a posta ma anch'io peraltro grazie grazie sei molto carino peraltro domanda fatta da un ex esponente di Forza Italia l'avevo già ricordato l'altra volta evidentemente quando frequentava i nostri club o quando militava per Forza Italia queste domande non se le faceva al di là della premessa iniziale in realtà quello che ho detto prima se sei stato attento era riferito precisamente al problema degli esodati ok quindi il gap e il danno che ha fatto questo scempio di riforma con questo numero immenso di persone che sono rimaste e senza lavoro e senza soldi una a caso mia mamma mia mamma è un'esodata e meno male che mia mamma ha un marito che ha una pensione e per fortuna una figlia che lavora perché diversamente le persone che sono senza lavoro e senza soldi vanno a chiedere l'elemosina quindi non ho capito la tua domanda in realtà perché è malposta il problema della legge Fornero ha un peccato originale una lettera scarlata che si chiama mesodati e quindi quello annulla tutto quello che anche di buono dietro la Fornero ci poteva stare quello che è successo nel 94 con un'altra economia con un'altra finanza con un altro tasso di disoccupazione con un altro o di occupazione evidentemente con un'altra moneta non sto qua neanche a spiegarlo a Fraschini a quest'ora va bene va bene andiamo avanti però Fraschini se vuoi tornare a Funamboli a incontrarmi quando vuoi sì prego salve buonasera mi chiamo Marco e volevo chiedere semplicemente una cosa anziché vedere a cosa dobbiamo rinunciare innanzitutto noi perché non iniziamo a vedere a cosa deve rinunciare chi è seduto alla camera o in altre figure tipo al vitalizio perché il non so se devo rispondere io scusate no no era in generale e poi se non voglio entrare devo fare una domanda alla signora Agnicchi allora facciamo una cosa alla volta hai appena introdotto il tema che da un po' che stiamo cercando di poi di inserirci di quello di dove andiamo a trovare questi soldi per le pensioni perché il problema vero è questo dove andiamo a trovare i soldi allora noi abbiamo messo così alcune proposte vorrei sentire i miei ospiti su queste meno tasse sul lavoro meno spesa pubblica via le pensioni d'oro partiamo da Agnicchi queste robe qua che abbiamo scritto è un libro dei sogni si può fare o è una roba che si può fare ma rimarranno sempre solo parole perché poi di queste cose qui siamo anche stanchi a casa sono stanchi anche di vedere scritte le lavagne rispondo anche già alla domanda del giovane io ero proprio nel gruppo di lavoro della Camera dei Deputati la scorsa legislatura nella quale abbiamo eliminato il vitalizio e abbiamo portato al calcolo contributivo anche per i parlamentari quindi tutti quelli che sono contributivo quindi tutti i parlamentari che sono che hanno iniziato con questa legislatura e quelli che c'erano la scorsa legislatura avranno solo ed esclusivamente il calcolo contributivo rispetto a quello che hanno versato però mi rendo anche conto che nonostante questa cosa sia stata già approvata e già approvata nel 2011 addirittura prima della Fornero non sembra che non che non si sappia quindi da questo punto di vista si è apposto le faccio vedere mi dica se di parte o cosa grafica uno no scusate è la grafica di Libero che dovrebbe essere la tre è il giornale di oggi che parla proprio di questo di pensioni di vitalizi d'oro e ci dà un dato la banda dei vitalizi doppi e tripli le pensioni di chi sta in Parlamento allora però scusa Leandro un terzo dei deputati e senatore in carica qui dice Libero molti di sinistra vabbè ci saranno anche di destra diciamo noi avrà più di un assegno Bersani oltre 9 mila euro Labindi oltre i 5 mila Finochiaro 7 mila Franceschini 6 mila record a destra per Formigoni 12 mila cioè è vero avete fatto questa roba però la gente poi apre il giornale e legge questo sì ma Leandro posso dire una cosa rischierò di essere sicuramente non popolare però anche il mostro dell'anticasta cioè questo è anticasta un attimo in generale sto facendo parto dal sistema non sarà mai sazio ok se per assurdo un deputato guadagnasse un euro anche quell'euro lì sarebbe troppo va bene fatto questo che per me è un assioma qui non parliamo di un euro parliamo di sto dicendo che in generale siccome è la categoria è la classe che è vista probabilmente a causa e non ti sto dicendo ma a causa di tutti gli sprechi che ci sono stati fino ad oggi che evidentemente merita se vogliamo anche questo tipo ma non può essere solo questo non è che possiamo salvare il paese dimezzando sto azzerando lo stipendio del parlamentare queste sono cose che Grillo ha detto per una vita ma che in realtà ti faccio un esempio però qua nessuno ha detto di bloccare gli stipendi parlamentari ti faccio un esempio del Parlamento europeo nella mia legislatura il Parlamento europeo si è dimezzato dimezzato la diaria cioè scusami le monumenti lo stipendio ok ora però uno poi non si accorge di tutto quello che sta dietro il Parlamento europeo l'istituzione europea se vogliamo andare a vedere il vero spreco che ha quella grossa macchina burocratica che si muove lentamente e che agisce ancora più lentamente allora forse gli sprechi vanno visti e individuati in quello torno alla spesa pubblica improduttiva per esempio non è che il parlamentare o il vitalizio risolvono il problema no ma il problema no ma non è risolvere il problema le pensioni d'Italia in realtà però se i giornali i giornali dicono Formigoni prende 11.000 euro al mese insomma uno si incacchia però ha perfettamente ragione la dottoresse cioè questi articoli e lo dico a voi giornalisti fanno male fanno male perché mistificano e portano la gente a pensare un titolo come questo che il problema sia il vitalizio che è un problema in sé ah ok no perché no però scusate no ma nessuno ha detto che risolve ora io non voglio sto dicendo di lei sto dicendo degli amici di Libro no che sostanzialmente e non solo loro ma sarà un problema quello dei vitalizi delle pensioni d'oro si possono prendere dei sondri anche da quello o no è un problema oggettivo nel senso che dal punto di vista simbolico chi ha responsabilità nel paese deve per primo far sacrifici e questo è però stiamo parlando di inezie cioè di una goccia nel mare se noi portassimo a zero la pensione di Spatuzza nessuno dice quello vogliamo dare il buon esempio vogliamo dare il buon esempio ma chi fa rinuncio allora io ho la pubblicità poi vado dai miei pensionati che sono chi sta vincendo a carte lì io ripetiamo il nome per tutti Giuseppe Giuseppe sta vincendo a scala 40 e poi mi dice anche una cosa su questa sugli sprechi dello Stato ripartiamo da qui perché abbiamo tante cose di cui parlare state con noi tra qualche minuto Funam Bentornati siamo qua con i nostri due pensionati in realtà uno l'altro non è ancora in pensione perché nella vita fa l'imprenditore l'imprenditore l'insegne luminose l'insegne luminose e si guadagna bene? no adesso adesso c'è carenza proprio c'è carenza che si potrebbe aggiungere una puntata così cioè quello che hai sentito in studio quante cose le corrispondono al vero ti hanno fatto chiarezza nella tua testa visto che tra un anno andrà in pensione cosa racconterai domani al bar quando tornerai a giocare a carte di questa sera? quasi niente quasi niente perché? quasi niente perché? perché siamo tornati indietro in che senso? ma di tutto ci sono meno tutele in quel senso? si ti senti meno tutelato rispetto a quando? pensando pensando alla pensione magari di mio padre ecco lui era molto più fortunato che lavorava lavorava e prendeva quello che doveva prendere prendeva quello che doveva prendere però la politica dice beh i soldi non ci sono mica ce li possiamo inventare si ma però ti viene a prendere i miei non mi sembra regolare senti le pensioni d'oro i vitalizi è una roba moralistica e basta non servono a nulla toglieresti tutto toglieresti tutto perché? perché sono non risolvi il problema a punto di vista finanziario i soldi mancano ancora però loro hanno la nostra bocca per mangiare ok va bene ragazzi anzi Steffi sentiamo che ne pensate voi a casa che si dice sul web allora abbiamo altri due messaggi su facebook andiamo a prendervi allora mi hai beccato impreparata ma in un attimo siamo subito lì sì dunque allora nel frattempo Alessandra scrive credo che il governo Renzi si stia muovendo nella giusta direzione del resto la riforma Fornero è stata dichiarata illegittima dalla consulta quindi tutto da rifare evitando gli sprechi ci saranno anche le coperture dice Alessandra poi ne abbiamo un altro ma lo vado a prendere te lo leggo subito dopo allora c'è una cosa da dire che mi fate vedere la grafica 1 l'aliquota previdenziale in questo paese lo sanno tutti ma è bene sottolinearlo è una cifra che è intorno al 33% eccola qua negli altri paesi in Francia è del 16% Regno Unito 14 Stati Uniti 12 Fatuzzo è una cosa che le risulta funziona così l'ho detto tre volte l'ho detto tre volte durante la trasmissione lo ascoltiamo ma è bello anche vederlo scritto non fate lo struzzo ascoltate Fatuzzo a lei se le prepara prima queste ne ho delle altre ne ha detta un'altra sul bonus Poletti questo è più importante interessa a tutte le telespettatrici e tutti i telespettatori già pensionati 9 pensionati su 10 dove è la telecamera adesso vuole fare anche il regista mi faccia riprendere 9 pensionati su 10 prendono meno di quanto gli spetta e non lo sanno controllate gratuitamente la vostra pensione scrivendomi a Bergamo piazza risorgimento 14 allegando la fotocopia del codice fiscale e della carta d'identità io vi controllo la pensione e ve lo ripeto 9 pensionati su 10 prendono meno di quanto gli spetta con le leggi in vigore cosa si chiama la campagna di tesseramento Fatuzzo non va bene è mai da sottintesa allora scusate per trovare dei soldi oltre a prenderli come dicevano i nostri pensionati in studio dalle nostre tasche da quel 33% che abbiamo fatto vedere mi commentate alcune delle nostre soluzioni per esempio via sprechi da sanità allora su questo Ronzulli cosa possiamo dire via sprechi da sanità patrimoniale oltre un milione di euro ecco su questa cosa per esempio voi siete sempre stati contro queste non possono essere soluzioni partiamo dagli sprechi della sanità perché abbiamo detto prima sui sprechi della sanità noi ne abbiamo sempre parlato per esempio il costo standard ormai è uscita dalle orecchie il costo della siringa che deve costare tanto in Lombardia non ce l'avete fatta quando governavate voi però applicarlo non mi fate rifare la storia di Forza Italia negli ultimi anni soprattutto dopo che qualcuno ha deciso di tradire e uscire dal nostro partito e abbiamo fatto praticamente due anni immobilizzati e poi non potevate farlo ma se vuoi la storia del golpe no no per carità mi interessa capire a casa interessa capire se sti sprechi alla sanità li possiamo togliere cosa votereste domani mattina con la Gniecchi col PD per togliere gli sprechi della sanità Gniecchi si può fare questa cosa si può fare certo è quello comunque su cui sta lavorando anche la ministra quindi gli sprechi della sanità voi potreste con questo costo standard toglierli assolutamente insieme domani mattina patrimoniale oltre un milione di euro Noci che ne pensa di questa un miliardo di euro un miliardo di euro sì ma in realtà secondo me si può fare anche oltre un milione di euro no se uno guadagna un milione di euro l'anno il tema della patrimoniale ancora una volta un miliardo mi sembra tantino diciamo che il tema della patrimoniale è un tema sono dovute prendere dei soldi perché non si sono voluti affrontare delle scelte che non sono popolari facendo poi un danno ad esempio a soggetti che hanno la prima casa e rispetto a quale viene tassata così come un enorme danno è stato fatto e dobbiamo dirlo ad esempio agli imprenditori italiani che ci seguono per coloro che si vedono tassati gli stessi impianti che giacciono negli stabilimenti quindi quegli impianti che sono produttivi vengono assimilati a edifici e rispetto ai quali vengono pagate le imposte quindi la patrimoniale è stata evidentemente ancora una volta una misura per cercare di recuperare un po' di soldi avendo devo dire i governi che si sono succeduti in questi ultimi anni una mancanza di lucidità straordinaria io vorrei fare un parallelismo purtroppo non certo piacevole rispetto alla situazione greca cioè in Grecia continuiamo a chiedere di fare delle cose e puntualmente non si capisce che quello che l'Europa chiede è impossibile da realizzare in Italia continuiamo a fare delle micro misure poi questa spend review non è mai tanto annunciata non è mai avvenuta ma in realtà non andiamo nel cuore del problema il cuore del problema è uno riorganizzare completamente la macchina dello Stato ma vi faccio un esempio ma vi pare possibile esempio di vita vissuta sì Leandro vita vissuta Milano città che vuole come dire competere con le grandi città del mondo il mio maestro all'università è andato la settimana scorsa a rinnovarsi la carta di identità e ha avuto l'ardire di chiedere la carta di identità digitale lei sa è rotta da 4 mesi la macchina glielo dico io ecco la risposta è ripassi fra 6 mesi per ottenere la carta di identità digitale ma ci rendiamo conto di come siamo messi questo per citare un gnecchi di Bolzano si telefona e te la mandano ecco le gnecchi di Bolzano ricordiamo sai che per sapere quant'è la propria pensione perché non bolzanizziamo l'Italia allora no è un esempio straordinario da due punti di vista nel senso che Bolzano certamente c'è un'attitudine teutonica verso un certo tipo di efficienza dobbiamo però ricordare dall'altro lato se non telefoni e ti prenoti te la fanno solo se ti prenoti digitale dicendo provincia che è un'attitudine che è un'attitudine gode di una quantità di come dire di contributi addizionali che sono certamente come dire io dico bolzanizziamo l'Italia mi piace mi piace però gnecchi no non ci non è d'accordo bene mi spiega come caspita si fa a trovare i soldi per le pensioni ad avere la carta identità la patente digitale il giorno dopo cioè perché questa caspita di macchina dello Stato non riesce a mettere a posto nessuno Ronzuri ci ha spiegato cosa è successo con Forza Italia e le mani legate voi adesso non ce l'avete le mani legate allora c'è la delega sulla pubblica amministrazione che è in commissione attualmente la Camera e dovrebbe essere proprio la semplificazione possiamo dire che vedremo quando finisce questo percorso se serve o se non serve però devo dire che il percorso è sicuramente iniziato il percorso è iniziato io ho visto la semplificazione che è stata fatta per i pensionati sì che se vogliono conoscere la misura della propria pensione devono comprarsi un computer imparare a usare il computer pagare l'abbonamento a internet e poi digitare e non riescono a sapere naturalmente nulla questo è una semplificazione Gieckens può fare nulla? beh bisogna dire che se partiamo da lui che dice non ho parlato male di nessuno ho detto quello che succede al pensionato che dice ma speditemi a casa invece che dare un indirizzo e-mail è oggettivo che insomma io scrivo le lettere a mano questo è un problema io con la calligrafia perché io imparai calligrafia in seconda ragioneria le aste come si fanno quando si scende più marcate più larghe quando si sale più sottili io scrivo tutte le lettere di risposta a chi mi scrive e chiede informazioni come si faceva una volta e viva la tecnologia c'è la pubblicità state lì sono pochissimo sono tante cose ancora che dovranno succedere negli ultimi dieci minuti state lì allora sentiamo bentornati anzitutto sentiamo che dite voi attraverso il web prego Steffi allora Renzi dice Giancarlo è il perfetto successore di Berlusconi riesce a prendere in giro gli italiani nello stesso modo adesso fa passare 500 euro come un regale ai pensionati restituendo solo una minima parte di quanto gli spetta prendendoli da un fondo dedicato a misure contro la povertà grazie per i vostri messaggi le domande in studio prego ragazzi sì prima quando ho parlato di vitalizi la signorina Gnecchi mi ha detto subito legislatura vecchia ma legislatura vecchia lei non promuoveva una legge che addirittura voleva estendere il vitalizio dalle classi più alte anche a coloro che avevano avuto un po' più di sfortuna nella carriera io non l'ho capita la domanda prova a spiegare allora prima praticamente nella vecchia legislazione la so già io la so già io perché questo è un problema che c'è contro di me su wikipedia no non è proprio wikipedia non è pubblico hai letto una cosa che dice cos'è che ha fatto che non va di questa legge praticamente la legge diceva che il vitalizio andava esteso non solo ai parlamentari più alti ma anche a quelli che avevano avuto aumentare il vitalizio dei parlamentari prova a scusare allora provo a dirla intera la mia proposta che è la 2875 e quindi basta andare a vederla nella scorsa legislatura e ci terrei veramente che venisse eletta mentre è stato Antonello Caporale su Repubblica Online a fare un articolo contro di me su questo poi gliel'abbiamo spiegato ha riconosciuto di aver sbagliato e non l'ha mai corretto e allora preciso se uno diventa sindaco sindaco di un comune e era prima giornalista o medico o dirigente o dirigente no aspetta è importante sapere che cosa faceva il comune deve pagare i contributi in base a quello che lui faceva cioè come se continuasse a fare quel lavoro lì se invece era disoccupato o inoccupato o studente o casalinga non solo non gli viene pagato neanche un euro di contributi ma il comune gli dà 3000 euro di emolumento 5000 euro perché sindaco il sindaco non può neanche versarseli volontariamente allora la mia proposta era che uno fosse costretto a iscriversi alla gestione separata proprio per versarsi dei contributi perché se uno poi non ha dei contributi quando poi è anziano pesa sulla collettività se va in una casa di riposo la devo fermare qui perché non abbiamo il tempo voglio proprio che sia chiaro quindi non era assolutamente per estendere vitalizio ma era perché anche chi fa il sindaco abbia dei contributi ma che si paga mi sembra molto chiaro prego l'altra domanda in sintesi a questo punto perché abbiamo pochissimi secondi io avevo una domanda per il professor se io andassi all'estero a lavorare avrei più possibilità di avere una pensione maggiore e non che mi garantissi un minimo perché è proprio di quello che stiamo parlando di futuro di futuro lavorativo cioè tu dici se vado all'estero riesco magari ho più soldi anche come pensione secondo la mia ragazza cioè il tema che ti devi porre non è tanto il tema della pensione ma è quello di cominciare a lavorare di portare a casa reddito quello che ti posso dire è che molti dei miei studenti stanno andando all'estero in molti paesi europei e non europei e devo dire con dispiacere che stanno ottenendo risultati straordinari dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista quindi consiglio o no di andare all'estero? lo so che deve dire soluzione o no e non si può in questo momento sì in questo momento sì c'è il rap poi sentiamo le conclusioni finali sentiamo anche Fatuzzo che vuole parlare giustamente però prima facciamo un po' un freestyle improvvisato su quello che avete sentito l'opinione di Valès ok sta per finire la trasmissione io come minimo avrò il minimo di pensione al massimo il massimo di pressione aggiungerei porca puttana sudi come se ad agosto tieni il maglione di lana siamo tutti in baglia della grana in baglia del governo che frana ok fottuti oh mio dio che qualcuno ci aiuti per arrivare la pensione bisogna versare il sangue altro che i contributi yes prima del selfie Ronzulli risponda sì o no a Valès che la sta corteggiando da diverse puntate il ragazzo si mette il cuore in pace impegnata no sì non parlo mai della mia vita privata vabbè così diamo una speranza a Valès però grazie Valès quindi la prossima volta puoi tornare sul corteggiamento alla Ronzulli ragazzi selfie prego con chi lo volete fare venite al centro dello studio con chi lo volete fare con l'onorevole Fatuzzo Fatuzzo allora ha mai fatto un selfie Fatuzzo? no mai ok spiegate a Fatuzzo cos'è un selfie sono preoccupato mentre lo fate è una cosa grave venga qua venga qua con due donne sì io potrei anche prestarvi quel coso spieghiamo a Fatuzzo cos'è un selfie un selfie è un autoscatto è un autoscatto che noi ci facciamo fatevi l'autoscatto mentre ve lo fate Fatuzzo voleva dirgli una cosa la dice mentre fa il selfie ma è veramente complicato mi sembra di essere sulla fune vostra cosa voleva dire mi sembra di essere un fune cosa voleva dire quando ha chiesto no voglio dire chi chi deve prendere questi arretrati dal governo perché la corte è costituita dica dica non devo dire perché la corte costituzionale ha fatto vincere i pensionati e non ho gli occhi chiusi fanno un altro sì sì dica dica perché la corte costituzionale ha fatto vincere i pensionati presenti la domanda presenti il ricorso e o la corte costituzionale gli darà ragione o altrimenti automaticamente si andrà alla corte europea dei diritti dell'uomo che ha vietato a un governo di approvarsi una legge per non pagare quello che i giudici l'hanno obbligati a pagare grazie quindi pensionati all'attacco questo mancava perché avete fatto il selfie con Fatuzzo ma no solo uno la signorina insieme no no insieme vi lasciamo qua fare i selfie dopo ditemi sta cosa basta così perché ci ha ricordato l'assurdità della legge italiana raccontando di quanto un nulla facente possa guadagnare più in pensione ma non è lui il nulla facente un nulla facente nel senso un ragazzo in cerca di lavoro che può guadagnare di più in pensione rispetto ad un ragazzo che invece sta sacrificando 634 euro al mese per chi arriva a 70 anni di età senza aver pagato nessun contributo e con il selfie con Carlo Fatuzzo ringrazio gli amici pensionati del bar diciamo bar Michi di dove sta il bar via Spinasse a Milano se volete andarle a trovare lui è un fenomeno tra l'altro a scala 40 a 101 lo diciamo che è importante grazie a Gnecchi che è venuto apposta da Bolzano grazie al professor Noci grazie a Alicia Ronzulli grazie a Valès grazie tanto ai ragazzi grazie alla preziosa Stefania Sirtoli alla redazione e a Fatuzzo che stasera ha imparato anche cosa è il selfie sì non sapevo è una cosa bella simpatica e rifacciamo un altro va bene vi lascio a fare i selfie buonanotte buonanotte a lunedì prossimo un programma in collaborazione con Primi in Europa scegli la qualità dei farmaci Teva grazie a tutti